La Casina Vambitelliana del Fusaro diventa per due giorni un osservatorio astronomico, grazie all'iniziativa dell'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Bacoli. Il progetto, dal titolo E uscimo a rimirare le stelle, si inserisce nell'ambito del progetto STER, dedicato all'osservazione dei corpi celesti. La due giorni appena conclusa rappresenta però soltanto il culmine di un percorso che ha preso il via nelle aule delle scuole baculesi e partito a gennaio scorso. Il progetto si divide infatti in due momenti, il primo dei quali ha previsto lo studio in aula di schede didattiche di approfondimento. I ragazzi della quinta elementare e della terza media sono stati impegnati nello studio di alcuni corpi celesti, in particolare Giove e i suoi quattro satelliti con la costellazione di Orione e dell'orsa maggiore. A questa prima fase ha fatto seguito una seconda, nel corso della quale novelle astronomi si sono cimentati nell'osservazione diretta dei pianeti e delle stelle. La base di osservazione è stata proprio la Casina Bambitelliana del Fusaro, dove per l'occasione è stato posizionato un telescopio professionale. Ieri e stasera i ragazzi dovranno uscire sul territorio dove un apposito telescopio professionale che viene dall'America è stato posizionato presso il complesso borbonico e avranno la possibilità di osservare le stelle. Ieri un gruppo di ragazzi della scuola media dell'istituto comprensivo Plinio Gramsci ha potuto osservare la Luna e Giove con i suoi quattro satelliti. Stasera è la volta della Paolo di Tarso che osserverà questo e speriamo che il tempo lo consenta di vedere anche qualche altro corpo celeste. L'iniziativa che ha avuto come scopo quello di avvicinare i giovani al mondo dell'astrofisica ha riscosso un notevolissimo successo. Oltre 200 i partecipanti e tanti di più i ragazzi che pur volendo non hanno potuto prendere parte al progetto. tanto da indurre l'assessore Guardascione a prevedere una seconda edizione e ad ampliarne la portata. Le richieste sono state tantissime però abbiamo dovuto mettere un freno. Questo è il primo anno che partiamo con questo progetto ma credo che l'anno prossimo dovremmo potenziarlo perché abbiamo avuto tante richieste e ha avuto un grande successo.